Aaaaaah! Cominciamo! Pronti via in compagnia di RoboCarpali Coraggiosi, ingegnosi, sono un fantastico team Aiutare e salvare chi è in difficoltà Questo è il sogno che ognuno di loro ha Poli! Coraggioso più che mai Rai! Forte anche in mezzo ai guai Ember! È davvero dolce, sai? Ellie! Guarda come vola su nel cielo blu Il risultato è assicurato RoboCarpali Risolveranno qualunque danno Puoi starne certo, è così Affiatati, organizzati RoboCarpali La squadra che ti aiuta è RoboCarpali Finalmente è finito E domani dovremo spostare i container Sì! Getto l'amo in acqua, sto fermo e aspetto i pesci Lady! Signorina Belle! Che cosa ci fai qui? Stavo solo giocando Cerca di non stancarti troppo giocando Avrai un sacco di lavoro da fare domani Sì Chissà sei ancora arrabbiata Ma sì, quando prenderò tanti pesci tornerà a sorridermi Cosa sono questi vermi? Non sono solo vermi, sono esche per pescare Così userai questi come esca? Sì esatto Ho parlato con il signor costruttore Dice che non esiste un'esca migliore Stavolta allora potrei davvero ricevere del pesce? Certamente E ti prometto che sarà valsa la pena aspettare Quanto devo aspettare questi sciocchi pesci? Mi sento un po' stanco Non devo addormentarmi Letty? L'ho presa! Letty! Signorina Belle! Hai dormito qui fuori tutta la notte Mi sono addormentato mentre giocavo, ecco tutto Beh, gli altri si sono messi a lavoro già da parecchio tempo ormai Mi dispiace, mi metto subito all'opera Ragazzi! Ciao, scusate per il ritardo Non fa niente Com'è andata? Quanti pesci hai preso? Non ne ho pescato neanche uno È la dimostrazione che non so fare proprio niente Che sciocchezza Certo, è che i pesci non erano svegli perché era notte Ah già! Però sono troppo stanco adesso Ragazzi, potete fare in fretta? È ora che io esca D'accordo! Sbrigiamoci, fratelli Letty, prendi quel container laggiù Subito! Caspita, ho tanto sonno Cos'era quel rumore? Letty, svegliati! Ah, accidenti! Le tartarughe Aspita! Oh no, ma cos'è successo? Le tartarughe giocattolo si stanno bagnando Emergenza, emergenza! La signorina Belle segnala un incidente al patto con un container Il contenuto si è riversato in mare Squadra di soccorso in azione! D'accordo! Facet l'acquesta Oh no, ma cos'è successo? Ma cos'è successo? Ciò con un'acquesta La signora è vera La signora è successo! Ma cos'è successo? Non rispondi Un'acquesta Con una scoperta Le tue La signora è successo Quella è successo Il contenuto Signorina Belle! Ragazzi, correte! Guardate laggiù! Sbrighiamoci prima che la corrente le trascini via. Ellie, va a stendere la corda di sicurezza. Subito! Andiamo, svelti! Sì! Ragazzi, in azione! Ellie! Tutto pronto! D'accordo! Siete tutti pronti? Iniziamo a radunarle! In azione! Cominciamo! Pronti via, in compagnia di RoboCarpali! Coraggiosi, ingegnosi! Sono un fantastico team! Aiutare e salvare chi è in difficoltà! Questo è il sogno che ognuno di loro ha! Oli! Coraggioso più che mai! Rai! Forte anche in mezzo ai guai! Ember! È davvero dolce, sai! Ellie! Guarda come vola su nel cielo blu! Il risultato è assicurato! RoboCarpali! Risolveranno qualunque danno, puoi starne certo! È così! Affiatati, organizzati, RoboCarpali! La squadra che ti aiuta è... RoboCarpali! 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 Autore dei sovrapposti